Ciao amici di Italia Top Games, allora, 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 oggi, venerdì 19 marzo, solo oggi, c'è assolutamente da loggarvi in MyClub, perché? Perché ve lo faccio vedere subito. In post in arrivo, oltre ai 300 punti football del login quotidiano, c'è una palla nera in regalo. È la stessa campagna che ieri ci ha regalato sei palle nere, quella sempre dei 400 milioni di download di PES Mobile. Però sono due sottocampagne. Una va avanti per il numero di gol complessivi segnati da tutti i giocatori. L'altra ci sta regalando ogni giorno una palla d'oro, ma oggi, oggi, solo oggi, venerdì 19 marzo, c'è una palla nera. Però dovete assolutamente loggarvi oggi, se no la palla nera non ve la dà. Quindi, mi raccomando, loggatevi. Io vi consiglio loggarvi sempre, perché, come dire, c'è sempre il premio quotidiano che possono essere monete d'oro, punti football, recupero resistenza. Ma oggi, più che mai, con una palla nera, assolutamente da fare. Adesso, quindi, visto che ci sono, mi giro la mia silver ball e la mia goal ball, vinte ieri nel match day a squadre personalizzate, e poi anche la black ball, sperando che vada un po' meglio di ieri, che ieri non è andata proprio benissimo con le 6 palla nera. Comunque, iniziamo dalla silver ball, vediamo che succede. Qui speranze di trovare un grande giocatore, ce ne sono pochi, però, Russia, Argentone, un portiere del Tinkov Rush, ah no, del Krasnodar, va bene. e subito, subito, lo trasformiamo in portiere, in preparatore ESP. Andiamo con le gold, e qui già si spera qualche cosina di meglio, dai, vediamo. Spagna, no, scusa, Francia, non è Neymar, giocatore del Marsiglia, Camarà, Camarà, mediano 80, e di mediani ne ho a Bizzeffe, anche lui lo trasformo subito, subito in preparatore ESP. Adesso veniamo alla palla nera, gli diamo un'occhiata agli obiettivi. Sono sempre 128, lo sapete che 1, 2, 3 ce li ho, e lui vorrei pescarlo Neymar, oppure l'altro che vorrei pescare, anche Sergio Ramos, San Caguero, e poi, poi c'era, 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 c'era Sané del Bayer Monaco. Comunque, se mi capita un giocatore del Liverpool o del Bayer Monaco, che no, no, il Liverpool lo sto usando questa settimana, il Match Day, diciamo che, va bene, andrebbe bene anche Koulibaly, ovviamente. Vabbè, dai, volevo trovare solo un attimo. Anche Ziak non mi dispiacerebbe. Mi piacerebbe, eccolo qui, Sané, vorrei tanto, mai avuto in PES, mai, 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 quindi 86, 96 di velocità, accelerazione 92, 32 livelli di crescita, mi piacerebbe davvero tanto prenderlo per MyClub. Comunque, ragazzi, tanto non dipende da me, e, giriamo e vediamo che succede. Inghilterra e il resto del mondo. Inghilterra, dai, un bel giocatore del Liverpool. Sì, 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 un giocatore del Liverpool. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Mi sa di sì, mi sa di sì. No! Tiago! Che bello! Che bello! Certo, era meglio quello in evidenza, ma Tiago, uh, che bella pescata, uh, che bella pescata, che bella pescata. Adesso tutti i preparatori ESP, CC, anche se non sono nella sua nazionalità, uh, sono contentissimo. Eccolo qui. Subito, subito, lo mettiamo nella squadra del Liverpool. Dov'è? 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 88. Eccolo, Tiago Alcantara. Togliamo, togliamo Casemiro. Vediamo un po' quanto mi scende di valutazione. 96. Allora, subito, subito facciamo un paio di allenamenti tattici. Vediamo se bastano. 97. 98. E ne facciamo un altro, allora. No problema. Allenamento tattico. Uno. Allen. 6,99. Tiago lo preferisco, Guainaldo, ma onestamente, a parte ha 24 ore di crescita, ma mi dà un sacco. Almeno l'anno scorso è stato il mio centrocampista titolare fisso. Vediamo quest'anno come va. Comunque, allora, ricapitolando. Oggi palla nera, assolutamente, loggatevi in PES 2021, MyClub. Più tardi vi svelo il prossimo premio del TG Tech di giovedì prossimo. Questa volta facciamo contenti gli utenti PC, quasi sempre facciamo contenti quelli PlayStation, ogni tanto Xbox, quelli PC. Sono un pochino meno premiati. Il prossimo premio, invece, è dedicato a loro. Sempre oggi arriverà anche il filmato di Rudy, il Pessologo e Francesco, il Tattico, che vi sveleranno in anteprima tutte, ma veramente tutte, le caratteristiche dei giocatori in evidenza di lunedì. Che ricordiamo sono gli agenti squadra di Roma e Manchester United e poi delle due nazionali di Argentina e Giappone. Con loro, veramente, andate sul sicuro, avrete un sacco di informazioni interessanti per le vostre formazioni di MyClub. Bene, vi ringrazio per l'attenzione. Aspetto di sapere voi che avete pescato oggi. Mi raccomando, fatemi sapere. Io, davvero, meglio di così non mi potevo andare. Sono felicissimo. Grazie ancora per l'attenzione e al prossimo filmato e alle prossime appuntamenti che vi ho appena annunciato. Ciao!